Sempre nuda. Davanti allo specchio si era sciolto l'abbraccio caldo dell'accappatoio bianco stropicciato dall'usura. Dapprima si era pettinata ai capelli ormai fragilissimi che a ciò che venivano via col passaggio del pettine. Tutti i nodi vengono al pettine. Fra gli ossigenati capelli biondo ramati aveva intravisto delle insinuanti bisci argente. Beh, capelli bianchi, tempo che passa. Alla luce del faretto illumina specchio le era sembrato un campo di grano solare attraversato da ruscelli. Immaginazione leopardiana. Gli occhi verdi e miopi avevano acutizzato la poca vista per mettere a fuoco. Sarebbe arsa volentieri. Tutta la situazione, un corpo che si lasciava prendere dalla vecchiaia e dalla malattia. Cazzo, doveva sbrigarsi. Spalmarsi le creme, idratare, convincere l'alter ego vanitoso di avere ancora vent'anni. Aveva appuntamento per un'intervista. Eh sì, anche lei. Ormai quando non ce n'era più bisogno. Aveva avuto successo. A precipizio si era vestita. Completo marrone maschile, trucco leggero, il solito, ed era corsa all'appuntamento. La giornalista sciatte e femminista che il posto l'aveva avuto non per lotta di vocazione, ma perché il papà era direttore. Le femministe sono, come scrivevo, o sciatte col vecchio modello sessantottino o donne in carriera vestite da Marilyn. La parità e l'uguaglianza dei diritti dei due sessi. Oggi duemila. Il mio sesso lo scelgo dipendentemente dal mio umore. Quando tutto mi va di traverso sono maschia e prenderei tutti a pugni. Quando sono gioiosa cinguetto e faccio la femmina. Mamma! Le stava dicendo che l'intervista sarebbe stata ripresa anche dalla tv locale. L'emozione si scatenò in una tenue tremarella, trattenuta dalla costanza vigile della direzione superiore mister cervello. Mrs. la cervella. Il cervello, il motore. La cosa più importante che abbiamo. Il cuore è solo una pompa. L'intelligenza è una complessa macchina delicata. La nostra esistenza dipende dal suo uso fallout.